Oh Norino, ho avuto un incidente! No, e com'è successo? Stavo procedendo tranquilla, tranquilla, quando ad un certo punto ho incrociato uno contro mano! Io sono riuscita a evitarlo, ma poi ne è arrivato un altro, e un altro ancora, e un altro ancora! Non ce l'ho fatta più, sono andata a sbattere contro due di questi pirati della strada! Ma dove ti trovavi? In via Fra Ignacio, sai quella di Cesona? Stavo scendendo da lì! Ma Luisa, in via Fra Ignacio non si può scendere, è un senso unico a salire! Eri tu contro mano! Ecco perché erano in tanti! Eh, madonna bella! Oh Norino, non ti preoccupare, la nostra macchina non si è fatta quasi niente! Ah, meno male, e le altre? Distrutti! Eccolo lì, adesso ti tocca pagare i danni! Ma no, abbiamo fatto l'assicurazione, no? Ma ce l'abbiamo! Eccola qua, Norino, la vedi? Non ti ricordi che l'hai fatta fare tu? Ah, già, è vero, è vero! Leggi un po' le clausole! Allora, sono scritti piccolini! Non vale in caso di incidente con macchine di colore verde, bianco, giallo e nere! Vabbè, il colore è avvinabile! Non vale se chi guida è più basso di due metri! E tu quanto sei alta? 1,65! Mannaggia, c'eri quasi! Non vale se il coniuge del guidatore ha più dei sei anni! Ma insomma, Norino, non vale mai! Ma che assicurazione è? È un'assicurazione che mi ha consigliato mio cugino! Siamo nei guai, mannaggia! Norino, ecco, per non trovarti nei guai devi rivolgerti ad Annet d'assicurazioni! Annet d'assicurazioni? Dov'è? A Carbonia! Annet d'assicurazioni è ottima non solo per assicurare la macchina, Questa rinomata compagnia, infatti, opera in tutti i settori del rischio e fonda la propria attività su una lunga esperienza maturata dal 1921 ad oggi Guidati da sempre dal desiderio di trovare le soluzioni migliori e bisogni di protezione e di sicurezza di coloro che ci circondano il team di professionisti di Annet d'assicurazioni garantisce i massimi livelli di qualità in campo assicurativo per la tutela delle persone, della famiglia e delle aziende Norino, lui è il titolare, signor Salvatore Annetta Oh, piacere, signor Salvatore, sono un suo futuro cliente, disperrato! Non si preoccupi, risolviamo tutto noi Ma riborsate anche eventuali danni fatti in casa Certamente, la polizia dell'abitazione compre i danni arrecati alla vostra casa ma anche alla casa del vicino, per esempio, in caso di rottura di un tubo Eh, ecco, perché ci si è rotto il tubo in casa da noi, no? E filtra l'acqua dal vicino e ci ha chiesto i danni Capito? Invece di essere contento che gli abbiamo lavato il soffitto e le pareti Ingratto proprio Senti, Luca, ma fate anche le polizie per gli animali? Sì, certo, abbiamo le polizie per i cani, per i cavalli Ma scusa, Luisa, ma cosa ti interessa? Non ne abbiamo animali E beh, fatti era per te Per me Ma ha detto cavallo